Intorno alle 6 di questa mattina si è verificato un gravissimo incidente sull'A14 Deer, nel tratto compreso tra lo svincolo della statale 253 e lo svincolo della statale 16 in direzione di Ravenna. Nello scontro avvenuto tra due vetture, una Ford Focus e una Fiat Punto, un uomo ha perso la vita ed un altro è rimasto ferito in condizioni giudicate dai soccorritori di media gravità. Sul luogo dell'evento è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per restare dall'abitacolo l'uomo che viaggiava sulla Focus. Presenti sul posto anche gli operatori del Terzo Tronco di Bologna, le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.